ciao ciao grazie grazie prossimo ciao grazie Rammai Rammai l1 e il 2 è uguale l1 è una gocchana non è lombaio l2 è un bota gocchana non è lombaio edo che il bavano gocchana non è lombaio e prendo quello che è un sottotitoli andr'nà gocchana non è triccilla 3 GIA Kirli R1 Bahagna Gocchana Nidri GIA R2 Bahagna Gocchana Nidri GIA Kirli GIA R2 Andherna Gocchana Nidri GIA R1 Chalo Andherna Gocchana Nidri GIA R1 Andherna Gocchana Nidri GIA R1 Atani Sankhya Is Equal To N1 Bahagna Gocchana Nidri GIA R1 Atani Sankhya Is Equal To N2 Bahra, Bahra, Chalo Ekam Lambai Deet Atani Sankhya Ekam Lambai Deet Atani Sankhya Small N1 Is Equal To N1 Upon L Barra, Barra, Kona Ata Bagaya Lambai Ekam Lambai Deet Atani Sankhya Pela Nana Gocchana Nidri GIA R1 Small N1 Is Equal To N1 Upon L Kona Ata Bagaya Lambai Evis Jethetet Bahaar Na Gocchana Nidri Gocchana Nidri GIA R1 Bahaar Na 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 Gocchana Nidri GIA R1 Sankhya Nidri GIA R1 Bahaar Na Gocchana Nidri GIA R1 Si abbiamo l'esperamento che da arcano a casa è da parte scanciata C'è tutto il sono più grande C'è tutto il Gio C'è punto Ilери la Gio C'è tutto il 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 Gio C'è l'E. B1 is equal to mu0 Sorry B2 is equal to mu0 N2 I Bravano So B2 is equal to mu0 N2 So 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 B2 is equal to mu0 N2 Bravano So 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 N1 N1 is equal to So N1 is equal to N1 into L So 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 no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. peccate . . . . . . . mu ma te sapi permeability barabar matrimni permeability barabar sunni okasni barabar sunni okasni permeability to avi jari apri andi andi peridakti marei to m is equal to killa avi to m is equal to n1 n2 mu pi r square into l barabar avi aakya chhe tondar namad mahi lagar nabar to avi iya mu chhe to mu barabar killa munkhi dhe vana to mu r into mu 0 to aakya n1 n2 mu 0 mu r pi r 1 square into l aakya aare anindar kukkira máhi mahi 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 ba aane mahi 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 grazie vero ma cosa per me è evidente su la materia che la è che il momento mandiamo le il 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 P'essimo quanto riguardi, ma che i'aiitu, per me abilità, ho vanno per me abilità, per me abilità, per me abilità, in modo, per me abilità, va capire, vedete qui i due fattori,